Cieli immensi di Silvia Alonso, premio Laurizia 2020. La porta sbatte dietro di me, dal fondo dei cardini ne sento rimbalzare il rumore pesante, simile al grugnito sordo di un animale inferocito. Non ho più tempo per alcun ripensamento, oltarlo del dubbio si farebbe strada e da lì il contraccolpo del pentimento. Voglio lasciarmi alle spalle l'immagine soffocante delle quattro mura che fino ad oggi mi hanno rinchiuso in una gabbia di piombo, le pareti strozzate sul mio corpo in una morsa tagliente. Dimenticare l'odore di rancido, esasperazione claustrofobica della mia mente diventato insopportabile. Mi riempio i polmoni di un'aria cristallina, concedendo una tregua al tamburo impazzito del mio cuore. Il solo essere riuscita a dire basta mi proietta in un orizzonte che adesso mi sembra sconfinato. Tutto si è dilatato l'ennesima potenza, come se mi fossi trasformata nella regina dell'universo e potessi abbracciarne l'infinita bellezza che per una breve istante sento di svelarsi. Ho come la sensazione che mi stiano spuntando delle piccole ali che mi permettono di emergere poco a poco, goccia dopo goccia, dall'apnea forzata di un pozzo denso e scuro.